Io sono Davide, sono un giocogliere, una realista, in parole semplici, un performer circense, sono giocogliere. Sono verticalista, sono a realista. Soprattutto, se volete, spettacoli. E, la guardia del circo, sono aperto a tutti i vari luoghi. Per spogliate di strada, sacre, villaggi latanzi, villaggi turistici, anche nelle scuole se volete, tutto di più.